Rousseau ha molta più importanza di quanto solitamente non gli si ne dà, in quanto rompe l'assolutismo della ragione introdotto dall'illuminismo. E quindi capovolge addirittura Cartesio che dice penso dunque sono e lui dice no, sento dunque sono. E dice addirittura che chi ragiona con la pura ragione e crede di essere solo intelletto, sbaglia di gran lungo. Su Dio, ecco, su Dio secondo lui l'uomo arriva con la pura ragione, beh fondamentalmente questo direi funziona. Ma la cosa che più mi ha colpito è questa, qual è la cosa più bella che Dio ha fatto? È l'uomo. E questo è straordinario. Lui dice che lo dice la ragione, in realtà i greci che sono grandissimi non erano arrivati a tanto. Il cosmo è superiore a te, le stelle sono superiore a te. E invece il cristianesimo ha insegnato il contrario. E lui è profondamente d'accordo su questo. Qual è la cosa più bella che ti ha fatto Dio? È farmi così. Essere contento di quello che sei è la cosa più bella. Ed è la felicità, se noi riuscissimo a far capire all'uomo d'oggi questa idea. Essere così come tu sei, hai già il massimo. Con Jean-Jacques si apre veramente, anche per le lettere moderne, la stagione della modernità, dell'individualismo, con tutto quello che comporta di positivo e anche di negativo. Se per noi cristiani il nostro Dio è il Dio di Gesù Cristo, figlio di Dio e di Maria Santissima, per lui è piuttosto questo sentimento della trascendenza nell'immanenza. Cioè sul quale si possono fare tanti ponti, diciamo come tentato di fare gel mio santo padrono due mille anni fa all'aeropago di Atene in un contesto diverso. È il Dio ignoto. Allora vuol dire, termino con questo, che con Jean-Jacques si apre veramente, anche per le lettere moderne, la stagione della modernità, dell'individualismo, con tutto quello che comporta di positivo e anche di negativo. Dunque è una figura ambivalente. Perché dialogo è il logo, se la ragione che attraversa tutti. Quindi è il terreno comune su cui ci si può incontrare credenti e non credenti. gioverà anche a ricordare che credente o non credente è un participio presente e che vuol dire che indica la transitorietà, la provvisorietà, per cui uno che oggi si dice credente potrebbero non essere domani e il non credente viceversa. Quindi credo che sia una bella riflessione. Quella su Russo, oltre alla ragione, credo che ci faccia scoprire, oltre all'ogus, l'altra grande componente dell'uomo che è il sentimento e il pazzo.